Buongiorno, oggi è il mio zio volante che vi parla, oggi è il 18 ottobre e finalmente dopo due ore di cammino, guardate cosa ho trovato qui, guardate che meraviglia, guardate che roba, è una famiglia intera, guardate che meraviglia, è meravigliosa, guardate qua, una famiglia intera di porcini, guardate qua, guarda cosa c'è qua, guarda, che colore meraviglioso che è, Dio mio, finalmente due ore di cammino, signore, da ignazio volante, ci vediamo dopo, ciao ciao.